Una lezione di sopravvivenza in Rai! Dopo governo basta che ci metti qualsiasi cosa e noi diciamo bravi! L'applauso parte spontanea! Qua siamo in Rai, però io ti volevo chiedere una cosa, Nunzia. Tu hai, insomma, adesso hai abbandonato la vita politica e ti, insomma, fai un altro mestiere, no? Sono sposata. Aspetta, aspetta. Ti volevo dire, tu non è che un giorno poi mi torni a fare politica? No. Lo giuri? Giuro perché ho cambiato vita e sto troppo bene. Bene, allora fermi, 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 fermi. E allora vieni con me perché dire queste cose. Ecco, vedi che sorpresa mi aspetta. Dire queste cose. Aber, alleati. Che si apra il nostro schermo perché adesso dovrai firmare il contratto con gli italiani. Vorrei dirti che naturalmente la scrivania è quella originale. dove quel signore senza capelli, no, beh, che ne aveva per pochi. Allora, vuoi leggere il contratto? Beh, ha molti più oggi, però. Sì, esatto. Devo anche dirvi che mi consenta. No, mi consenta, non lo puoi dire. Non lo posso dire. Io sottoscritto. Sì. Annunziata di Girona. Sì. Ah, annunziata. C'è già un errore. Beh, vedi. Quindi firmerei già un falso. Vabbè. Vabbè. Perché non ti chiami a me. Perché non ti chiami a me. Non ti ha. Ho votato di peggio. Ma dov'è l'errore, scusa? Dov'è l'errore? Ho votato di peggio. Allora, cancelliamo la data di nascita perché la signora non si dice. No, io non ho problemi. 10 ottobre 75. Già deputata della Repubblica Italiana. Oggi 29 settembre 2019. Dichiaro ufficialmente, direvocabilmente, chiusa la mia carriera politica. Eh, non c'è. Da questo momento in poi, nello studio di quelli che calcio, dichiaro solennamente aperta la mia professione nel mondo dello spettacolo. Firma. L'ha fatto! Grazie.